Lunedì inizia una nuova avventura per Stefano Marrini, perché partirà il primo gennaio la Dakar, però da lunedì inizierà questa trasferta? Sì, diciamo che l'avventura ormai è iniziata da qualche mese, da quando ho deciso definitivamente di... ho capito che potevo partecipare a questo grande evento. Dal lunedì è il giorno della partenza, è il giorno in cui teoricamente si staccherà mentalmente da tutto il resto e ci concentreremo sulla gara, per cui penso che da lì in poi ce la godremo. Per quanto riguarda la preparazione a questa Dakar, com'è andato questo ITER? Beh, diciamo che ho coniugato un po' anche con gli impegni professionali che ho, ma alla fine ce l'ho fatta così a perdere un po' di peso, ho fatto un po' di palestra, un po' di bicicletta. Di sicuro non ho purtroppo il privilegio di poter fare il professionista vero, però diciamo che ci abbiamo messo tanto impegno. Con quale team sarai presente in Sud America? Ma il cuore è sempre stato ormai da tanti anni Mitsubishi e anche in questa occasione la vettura sarà una Mitsubishi e farò parte della spedizione tutta italiana a Rally Art Italia, quindi team ufficiale Mitsubishi, siamo tre macchine, un camion in gara, due camion in assistenza, per cui un bel gruppo, una bella squadra con tante aspettative. Per quanto riguarda il tuo equipaggio c'è una figura che conosci ormai da tanto tempo? Sì, il navigatore, appunto, sono anni che corro con lui, anche per lui questa è un'esperienza nuova, per cui io dico sempre la responsabilità ce n'è veramente tanta sulle spalle, perché mentre per il pilota è difficile guidare su quei fondi là, ma alla fine bisogna pensare che si assomigliano perlomeno in alcuni tratti ai rally veri, la navigazione è completamente diversa, per cui sono nelle sue mani e spero che sia bravo. Buon viaggio in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie mille.